eccomi qua ragazzi bentornati qua in questa quattordicesima puntata della serie north region io qui intanto sto finendo di raccogliere le ultime balle di fieno dato che questo qua sarebbe il mio quarto carico quindi appunto quello che mi serve e mi basta e avanza quindi quello che resta lo lascerò qui per il momento dopodiché porterò tutto quanto a casa insieme alle altre balle però una bella lavatina all'arcusin e anche al classica bisogno di una manutenzione perché come potete vedere ha raggiunto le 6.4 ore e l'usura è oltre la metà quindi mi conviene subitissimo andare a sistemare prima che sia troppo tardi ma vediamo di prendere su l'ultima boh perfetto e adesso io faccio tutto quanto e dopodiché ci vediamo al negozio finita la manutenzione per comprare alcune cose anzi noleggiare più che altro una sola cosa verrà comprata e sarà una cosa molto utile e in poche parole diciamo che è una cosa che non ovviamente di fare questo dato ma mi avete suggerito delle buone idee quindi di mettere subitissimo in pratica il tutto quindi oggi non faremo quello che ho detto l'altra volta ma semplicemente andremo a fare cose nuove e che diciamo spero mi aiutino con qualcosa insomma però l'unica cosa che so è che purtroppo i soldi si andranno molto velocemente quindi per quello sarà un po' un erroneo ma comunque recupererò con qualche vendita ho già qualcosa da parte quindi state tranquilli che non sarà un problema rifarci tutte quante le spese bene la manutenzione all'action è stata fatta adesso è pronto per tornare in campo io intanto vado a noleggiare tutti gli attrezzi che servono per raccogliere il fieno e stavo pensando una cosa cioè che forse il volto a finora ma adesso non lo prendevo ma lo noleggiavo perché sinceramente penso che lo utilizzerò molto poco ogni tanto mi servirà appunto per magari far fine ragione per le vacche per il resto però forse è meglio se evitavo ma vabbè pazienza posso sempre fare in tempo anche a venderlo non è un problema però diciamo che potevo evitare una spesa che non serviva buon tanto vediamo di prende a noleggio un'attrezzatura detto voi nei commenti cioè la phrase è in effetti avete ragione perché in questo momento qua ha un sacco di fieno quindi per fare in fretta è meglio su utilizzo lei quindi la prende a noleggio fatete che a tutte e quanto le culture del gioco a parte va bene ovviamente il cotone mentre per il resto avete che è una bestia sta macchina qua per chi di voi non lo so penso che si chiama millimachine quindi se volete cercare in giro la trovate con questo nome qua eccolo qua non so neanche qua modificare il colore di niente potrei farlo magari colorata come la eccolo con class che sto meglio se la lascio qui perché mi fa schifo col colore lì andato prendiamo a noleggio quindi bo perfetto 255 euro e anche una ralla perché in effetti avete ragione anche su questo cosa qua potrei utilizzare il rimorco del camion attaccato dietro appunto con questa ralla qua quindi direi che come idea ci sta anche bene e utilizzare gomme giuste per andare anche in mezzi campi l'ho maneggiato il coso l'ho comprato non mi ricordo più vediamo un attimo perché ne ho dato mentre parlo mi perdo e va a finire che ok come perfetto a fine che mario sbaglio poi attacco a porchi come al solito infatti qui oggi ha messo il lo scania con rimorchio lì vicino così poi posso attaccare tutto quanto direttamente e andare a fare raccolta fieno e sarebbe veramente un mostro anche per quanto riguarda il lancio del prodotto perché raggiunge anche i 30 metri in teoria quindi proprio utilissima per tante cose attaccarezza di si parla di macchina si non è tanta intonata ma comunque mi faceva schifo farla farlo come classe ma comunque è tanto vediamo di metto la posizione di lavoro ed è già tra ha intravisto il rimorchio oh cazzo mi tocca fare anche il manovra corallato no mi volete male voi veramente fortuna che poi lo scarico andrò a farlo con lo scania così è più veloce anche la perfetto adesso mettiamoci in posizione iniziamo subiettissimo la raccolta direi di partire più gatto da qua dopo di che farò tutto quanto il resto farò il contorno dopo di che procedo su e giù come al solito bene mettiamo in moto la bestia ah sì giusto è una cosa boh mettiamo in moto i coltelli ma grazie di mamma che bestia e iniziamo a raccogliere subitissimo poi allora io qui intanto ho quasi fatto il primo rimorchio di fieno ok boh perfetto tiriamo sulla macchina ed è che intanto manca ancora poca roba quindi penso di fare un altro rimorchio non totalmente pieno ma forse metà ecco boh intanto vediamo di sganciare un attimino qua il rimorchio così poi attacco subitissimo il camion mettiamolo qua intanto ok e mi sono accorgato di una cosa praticamente lì in fondo non so se si vede bene c'è una balla di fieno messa la in fondo in mezzo agli alberi tra parte della strada in teoria questo è successo quando è stato a imballare e facendo la curva la balla è stata rilasciata in mezzo alla strada e le macchine hanno fatto a modi ping pong una cosa del genere e quindi la balla finita lì maledette macchine se vorrei e se potessi il mio errore verbale se potessi le distruggerei come su breakfast ma purtroppo non è possibile quindi vabbè poi andrò a portare via questi macchinari che portare al negozio porterò a casa la zavorra andrò a toccare carica balle caricherò queste tre balle qui e le porterò nel luogo in cui sto andando adesso con questo bellissimo carico di fieno e adesso vedo di fare la stagione per evitare di trovarmi a fare 3.000 skin cane che stiamo in qualche parte come il mio solito devo passare in centro abitato tanto allora e schiantarmi contro una bella muretta oppure giù per il fosso allora bene io qui intanto sono arrivato pensavo fosse più lontano invece poi mi sono accortato da una mappa che era a quattro passi quindi potevo anche non interrompere il video ma va bene dai non importa tanto ho avuto di girarmi già andare in retromarcia e scaricare tutto quanto in questo impianto per la produzione di compost in poche parole lui attraverso ad esempio il fieno o paglia o mais non fermentato trasforma il tutto in appunto questo compost che è formato da queste cose qua e fermenta tutto e diventa concime totalmente naturale senza utilizzo di letame da quello che mi ricordo e comunque poi può essere anche venduto o forse in teoria anche utilizzato nei campi come concime vedo se qua nel gioco è possibile farlo questa cosa qua la vedremo più avanti visto che per adesso solamente per non buttarlo via per niente anche perché vedo che se vendo il fieno mi fa 219 euro nei millilitri non so neanche tanto male però sinceramente ma posso anche utilizzarlo per qualcosa di meglio mentre compost eccolo qua 1051 sempre se questo quattro capo non lo so se sia veramente questo perché vedo che il com beh sì alla fine si essendo un sacchetto all'interno poi c'è compost per poterli fare bei soldi però tanto vediamo con calma e un'altra cosa essendo un macchinario appunto bisogna che di gasolio che dopo dovranno fare un bel pieno quindi per adesso vedo di portare qua gli ultimi residui qua di di fieno che ci sono sul campo dopodiché farà pieno di gasolio e averò la produzione allora io qui intanto portato il crash con i raccogli balle ho anche trovato una balla di fieno così a caso l'ho trovata vicino al cappanone ma se ne portiamo via e siamo a posto intanto ho preso lo scania con una cisterna che raccoglie anche il gasolio e l'ho caricata con 10 mila litri e diciamo che per riepire ci è voluto un pochettino e soprattutto il costo di 10 mila euro circa quindi più o meno un euro al litro e che era una bestemmia visto che adesso non so nemmeno se questi litri qua abbastano ancora il problema intanto vediamo di metterci dritti visto che dopo devo andare su con il caricaballe e vorrei evitare di distruggere il camion allora così deve andare bene boh ok questo qua ovviamente è la cisterna che appunto funziona tutto quanto al macchinario intanto la verso qua prendo il crash iniziamo subito a dispiegarlo in posizione di scarico cerchiamo di non fare danni vediamo così dovrei farcela oh no esco di fare danni ok cosa può andare bene ho leggermente grattato il coso ma non importa boh scarichiamo tutto quanto perfetto è sentire qua c'è un monitor che mi dice tutto quanto quindi lite e tutte queste robe 120 semine litri di roba paglia e fieno vedo che accetta ecco adesso vado a vedere un attimino cosa accetta esattamente vedo mi pare del cipato ha inserato fresco inserato fermentato paglia fieno erba quindi proprio perfetto adesso manca solamente il diesel e il compost è questo qua che posso andare a vendere oppure penso di poter anche utilizzare come detto prima per concimare i campi quindi adesso io svuoto è un attimo che vedo una cosa aspetta un attimo ecco r allo a diesel capacità 25 mililitri totali 350 mililitri di roba che può contenere quindi boh e dio vediamo produttività non si vede 0 litri ora si vede che ha sempre ancora metterli in moto macchinario così non mi può dire niente se non lo metto in azione ok per scaricare intanto e vediamo un attimino cosa mi dice aveva 4000 litri devo finire scaricare un attimo produttività 10 mila litri ora bestia non male l'altro invece era 1000 litri ora questo invece fa 9 volte tanto quindi perfetto guarda poi andato scarico gli ultimi lì madonna quanto carico scarica però c'è sta roba questa botta qua era una bestia allora porto via la botta la riporto al negozio e vado subitissimo a casa a fare altri lavori e metto il giorno a buttare concime sul campo 27 perché mi servirà il 27 quello va a comprare si il 27 ok perché poi mi servirà per fare un'altra cosa molto molto importante per poter avviare poi altre cose nel mia azienda valore intanto ho lasciato la butta del gasolio al distributore visse quello fare un altro bel pieno al macchinario perché non so quanto consumi ma comunque ho fatto un pieno di cosa 10 mili litri quindi una roba proprio poca poca ecco quindi volevo diciamo avere il macchinario bello operativo con un bel pieno e quindi quando lo fallo ma anche perché la sua puntata volevo fare una cosa oggi andrò a seminare il 34 20 33 di avere dato che una cultura che rende bene come soldi una volta venduta ma produce anche paglia quindi posso anche tranquillamente utilizzare appunto il residuo di questa cultura qua per produrre concime con questo macchinario e ho scoperto una cosa che pensavo fosse possibile infatti per sicurezza da una occhiata e a quanto pare lo spandiletame accetta appunto il compost quindi posso tranquillamente utilizzarlo al posto di quello chimico fermando con po di soldi e così posso anche concimare i campi in modo più naturale soprattutto sfruttare appunto questo compost e magari posso vedere non so una parte per far soldi visto che il prezzo non è male infatti vedete che adesso non so quanto si ma per affossossi 1500 se ricordo male compost eccolo qua ecco vabbè 1051 ok si non ha un prezzo altissimissimo comunque sui 1000 euro neanche tanto male ma comunque posso anche tranquillamente utilizzarlo appunto come concime naturale ecco poi vedo mai di quanto ne produco se ne faccio tanto poi bisogna vedere anche tutto quanto la parte utilizzo se ne butta via tanto dovrò mettervi sotto e fare un bel po mentre per il resto devo spostare un attimino questo silos qua anzi si devo sostituirlo con uno multi fruit quindi devo semplicemente svuotare ciò che c'è all'interno quindi pare fosse avena e frumento sono ricordo male vediamo subito si frumento e no scusate soia ok e dopo di che solito il silos e poi sono a posto e posso finalmente avere un silos che sia compatibile con qualsiasi cultura quindi intanto io cosa faccio prendo scarico butto lì a terra dopodiché con la phrase quindi ecco perché l'ho portata a casa ricarico il rimorchio e scarico super al al coso che è il punto di scarico e così sono a posto senza stare lì magari a perdere soldi o altre cose cioè piegato e li guadagni perché alla fine quando tu togli il silos li vende i prodotti all'interno ma intanto vediamo di far così ok è a posto bene ora che il silos è vuoto intanto quello operario è finito di concimare tanto so che non è vero mancherà ancora un pezzettino ma dopo vado a sistemare finalmente posso andare a vendere il silos vecchio e prendere quello nuovo allora andiamo qua cercamolo ah eccolo qua ok allora il silo da 200 millilitri quindi cercare una cosa del genere anche massimo 250 mila anche perché sinceramente non vado a cercare una roba esagerata tanto non faccio molta scorta quindi penso che 200 mila possono anche essere abbastanza e forse anche troppi adesso vendiamo vediamo che 70 mila euro e andiamo a cercare quello nuovo allora lì se volevo puntare su qualcosa tipo questi qua perché sono fatti apposta per questa north frisian quindi per la mappa poi c'è anche un'altra parte che riguarda il le fabbriche quindi ad esempio il compost tante altre cose quindi sono proprio fatti apposta per questa e quindi rendono tutto quanto molto più bello e molto più diciamo in armonia ecco con la mappa stessa però allora questo qui è da 400 mililitri e forse anche un po troppo costo 250 millilitri quindi è un po esagerato secondo me come prezzo e a occhi mi sembra un attimino anche più piccolo rispetto all'altro forse perché ha due silos e uno centrale quindi è per quello che mi sembra piccolo mari poi si capisce anche più litri perché mari è diviso a metà e quindi i litri si separano però per il prezzo è sinceramente non vado a spendere così tanto per un silos piuttosto prendo uno di quelli là che sono diciamo più trivetto semplici cioè questi qua l'ho tratti in giro e tomassina per questi capite che tanto alla fine assomigliano un pochettino quelli originali solo che hanno la particolarità di avere il punto di scarico che è praticamente dove c'è anche il punto di carico quindi tutto quanto insieme il prezzo è di 180 mila euro 250 mililitri quindi sono proprio azzeccatissimi perché ciò che serve per ciò che serve a me cultura città da tutte quante quindi direi ottimo e attimo di posizionarlo qui dove era l'altro più o meno se non so esattamente a dirvi dove cavolo era perché non me lo ricordo più meno male lo so ma non non esattamente vediamo di radirizzare un attimino per metterlo bene dritto utilizzando la il cavo come diciamo metodo di insomma per comparare la parte qua non so come dirlo scusate sono un po impaperato se più o meno dai vediamo di metterlo più o meno dove era prima il prea fosse qua così sono ricordo male maricuato ok speriamo bene po perfetto vediamo un attimo sì forse un attimino più indietro ma penso possa andare bene lo stesso e va bene dai non è male però qualche ragione che sto albero qua perché così almeno posso andare meglio fa anche le manovre ad esempio arrivo qua entra di qua poi giro direttamente così e sono già abbastanza dritti invece con questo albero qua un po di intricamenta per quanto riguarda mette all'interno di morchio le attrezze perché infatti ho fatto un po di fatica a mettere all'interno il volta fino al volta fino il ragnatore perché c'era il coso qua la recinzione un po in mezzo alle balle o sennò potrei anche tranquillamente restringere un po la recinzione magari non so male come idea però mi farò uno schifo quindi tirare giù questo albero qua mettere la recinzione magari da questa parte qua così in modo da rendere tutto quanto un pochettino più bello perché mi piace mettere le recinzioni per rendere tutto più armonioso grazie per avermi seguito ci vedremo in un prossimo video che faremo tante altre belle cose e vedremo che altro cominar di bello per rendere tutto quanto più interessante e poi magari ecco sì giusto fare anche la vendita delle duritos mi pare che siano sì quindi vedremo di fare anche quella balla nella prossima puntata e così meno potrò potrò fare un po di soldi per comprare altre cose sicuramente altri progetti ma come sapete i soldi sono quelli che spericano sempre molto velocemente alla prossima ciao ciao